Radio 4G On Demand, Radio Novelli, negozio di Roma. Sono le ore 18 del giorno sabato 13 febbraio 2016. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro benvenuto e il nostro buon pomeriggio. Nel giorno del World Radio Day accendiamo la prima radio 4G mai prodotta al mondo per riprodurre il contenuto inaugurale da YouTube con la musica alla radio della cantante italiana Laura Pausini. Signori e signore, buon ascolto e buona visione. Radio Novelli 4G On Demand, che lo spettacolo abbia inizio. La radio prende una nuova direzione. Abbiamo cambiato la radio verso un futuro 4G. La nuova frontiera della radio, RDN 4G On Demand, brevettata per milioni di nuovi consumatori. I contenuti di ieri e di oggi a portata di mano. La prima radio 4G al mondo. Streaming HQ, audio e video a comando vocale. Facile e intuitiva per infinite possibilità. È un brevetto coperto a livello internazionale e nessuno può creare una device come questa che è stata ingegnerizzata, ideata e prototipata direttamente dalle mani di italiani. Viva la radio!